Rimaniamo in tema perché abbiamo fatto di più, abbiamo voluto sentire una biologa dell'ARPAT che ci spiega in linea di principio quali potrebbero essere le cause che portano a questa moria. Ascoltiamo l'intervista. Si parla di questi delfini che hanno questo stomaco vuoto. Sì, questi sono risultati proprio nostri perché il nostro settore mare che analizza i contenuti stomacali dei delfini e questi stomaci di questi turziopi sono praticamente vuoti. Questo significa che sono animali che non stanno bene, molto probabilmente sono diversi giorni che non si alimentano perché non si sono nutri negli ultimi giorni. Invece il turziopi di solito è un animale, siccome è un animale costiero, un animale che si adatta a mangiare tante cose diverse, segue pescherecce, mangia scarto del pescatore, va a rubare nella rete. Di solito è a noi che facciamo un po' questo tipo di analisi della dieta di questi animali da tanto tempo, per noi lo stomaco di un turzio pesano che sta bene è uno stomaco pieno, pieno di tante cose, gronchi, naselli, triglie, anche pezzi interi di pasti, quindi recenti, fatti qualche ora prima. Se il morbillo lo escludiamo può essere ancora quello? No, il morbillo non lo possiamo escludere finché non abbiamo la prova certa dei risultati degli esami. possiamo dire e analizzare quello che sta succedendo. Una mortalità anomala di turziopi nella nostra regione perché non sembra riscontrarsi lo stesso evento in altre regioni d'Italia o in altre regioni limitrofe, alcuni decessi in Liguria, però non ai nostri livelli, quindi dobbiamo capire meglio perché. Quindi per il momento non escludiamo niente e continuiamo a raccogliere prove.